ciao ragazzi bentornati nel mio canale oggi unboxing del sito di cobeads infatti qui mi è arrivato il pacchettello e adesso andremo a scoprire tutte le cosine che ho scelto appunto in collaborazione con il sito cobeads vi ricordo che nell'info box vi lascio tutti i link di tutti i prodotti scelti e anche un piccolo codice sconto rieccomi queste sono tutte le cosine che ho scelto questa appunto la bolla con esattamente 16 articoli ho scelto appunto dal sito di cobeads e adesso vi illustro man mano quello che ho scelto partiamo sempre dalle cosine per la resina ho scelto questi stampi qui allora il primo è questo qui questo è il codice e sono esattamente questo bellissimo stampo che ne ho presi esattamente due ed eccolo qua si è sempre sia il stesso articolo ok vi ricordo che poi ovviamente l'ordine di del sito viene spedito sempre come slt con italia special line e il pacchetto arriva dai 7 ai 15 giorni lavorativi io ho atteso esattamente 13 giorni per questo pacchettino qui allora un attimino che tolgo la bustina eccomi qua allora ho preso questo bellissimo stampo per realizzare i cabochon tutti belli sfaccettati e volendo con questo stampo qui possiamo realizzarli anche con la resina ovvi ho preso questo con la navette lo vale vedete all'interno c'è la sfaccettatura c'è il cuoricino il cuoricino grande questo piccolo alla stellina il triangolo il rettangolo questa sorta di ovalina un simile rivoli qui c'è all'interno c'è ok ok un pezzettello di qualcosa una goccia sempre sfaccettata e questo è appunto un rombetto e niente andrò a testare questo stampino come vi dicevo prima ne ho presi appunto due per fare ovviamente le coppie e poi ho preso quest'altro stampo questo il codicino e ne ho presi sempre due per fare appunto le coppie tolgo anche aspettate rieccomi ho messo pausa così non vi evito tutti questi rumori di sottofondo con le bustine altro ho preso questo stampo che davvero interessante ci sono le farfalle ci sono alcune all'albero della vita questi sorti di ventaglietti questi connettori non so lo trovavo davvero interessante e non vedo l'ora di provarlo e testarlo anche con la resina anche questo qui davvero molto carino per degli orecchini davvero semplici sempre in resina mi sto davvero sbizzarrendo con la resina e infatti man mano vado a sperimentare qualsiasi tipologia di stampo come dicevo prima ne ho presi appunto due e questi sono gli stampi con la resina ovviamente i tutorial saranno uno con la resina e uno con le perline poi oltre agli stampi con la resina ho preso questa scatolina qui che non è appunto una scatolina ma è un paio di orecchini questo è il codice vado ad aprire la scatola ritorno da voi rieccomi ecco la scatolina semplicissima nera e all'interno ci sono questi graziosissimi orecchini ok davvero carinissimi infatti in questo modo sono più che altro dei perni perché volendo sotto posso agganciare anche qualcosina con le perline di acqua dolce e questa bellissima monachella questa sinceramente non mi ricordo il materiale un attimo che controllo dal sito perché davanti ho il computer così posso dirvi esattamente che materiale è e sono appunto questi qui in un attimo che non trovo il prodottino perché ne ho scelti troppi questi sono esattamente in ottone con perline appunto in conchiglia sono carinissimi poi c'era scritto placato in oro e quindi li ho presi al limite li testo e vedo se su di me fanno allergia sono davvero carinissimi rieccomi poi ho preso tutte queste bustine aspettate che le apro sono tutte rocaille 11.0 e sono tutte quante della stessa colorazione e sono appunto le 49 della toko e sono appunto le rocaille 11.0 queste opac black poi ho preso due rivoli da 18 mm della swarovski esattamente in colorazione crystal sono spettacolari aspettate che ve lo mostro dal vivo eccolo qua perdonate le mie mani ma sono in condizioni pietose e ne ho presi esattamente due questo e l'altro sempre questo codice e poi ho preso i rivoli questi qui da 12 mm in colorazione emerald sempre della swarovski attimino che ve li mostro sono anche questi bellissimi la mia colorazione preferita stupendi e ne ho presi sempre due paia questo è il codicino poi per quanto riguarda le rocaille 11.0 ne ho presi anche in altre colorazioni ho preso questa colorazione qui che è esattamente la 53 f ed è l'opac light gray è una bellissima colorazione un grigio molto chiaro molto molto carino poi ho preso questa qui che è esattamente la 21.02 ed è la guilt lined steel blue molto bella non so se rende in videocamera una sorta di celestino molto tenue ogni tanto non mette a fuoco davvero molto 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 belle poi ho preso questa qui che è la 21.06 e sono appunto le guilt lined violet molto belle anche questa non so perché non mette a fuoco metti a fuoco telefono perché sto appunto registrando col cellulare poi ho preso questa qui che è la 21.13 ed è esattamente la guilt lined fire brick questa già l'avevo presa in passato ed è davvero una bellissima colorazione sembra appunto il colore del melograno un rosso bello intenso poi ho preso questa qui che è la 21.07 e sono appunto le guilt lined magenta molto bello anche questo colore che è diverso dall'altro questo è un po più tenue sulla mia destra e questo è un po più acceso infatti si differenziano soltanto di un numero questo è il 21.06 e quell'altro il 21.07 così ho tutte le sfumature possibili e immaginabili di tutte le rocaille 11.0 e poi ho preso questo qui che è il numero 35 ed è appunto il silver lined royal blue davvero uno stupendo colore questo davvero molto bello davvero molto bello metti a fuoco cellulare royal blue bello bello poi ho preso il 23 bd ok ed è esattamente il silver lined dark turquoise un po più scorretto rispetto a quello di prima vedete sono due nuance differenti anche questo molto carino poi ho preso il 365 che è esattamente il transparent color rainbow tomato questo anche già l'ho preso in passato e questo pure mi piace tanto lo provo a togliere dalla bustina perché questo mi sa che ok così rende di più molto molto bello nel frattempo questo cane se gli è venuta una crisi isterica non so se si sente dal cellulare poi ho anche la batteria scarica ho preso il 2110 e questo è anche stupendo come colore è il guilt lined esattamente moccasin molto acceso non so se rende in videocamera molto molto carino anche questo infine ho preso questo qui che è il 201 e sono appunto le gold platted purple queste anche le ho prese in passato e sono anche queste stupende eccole qui molto belle diciamo che un bel assortimentino di rocaille toko ecco perché ho bisogno di scatoline tante scatoline poi un giorno vi mostrerò proprio tutta la palette di tutte le locaille tutte quante tutte quante insieme così vedrete proprio tutte le sfumature perché le sto aggiustando per sia per finitura e anche sia per numero appunto della della toko quindi vedrete tante 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 scatoline niente ragazzi queste erano le cosine che ho scelto appunto dal sito di cobeads vedrete sia un video in tessitura con le perline e sia un video appunto con la resina io spero che questo unboxing sia stato di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti